Una forte emozione per il momento, per il deputato Matteotti, la nostra storia della democrazia e la nostra lotta contro il fascismo. E la lotta contro il fascismo è di un'attualità assolutamente, perché il fascismo è ritornato, perché questo momento è sì importante. In Italia, secondo lei, visto gli ultimi accadimenti, la destra al governo, c'è ancora questo rischio? No, hanno prenduto la distanza con il fascismo, della storia terribile della destruzione dell'Europa per il fascismo. Il fascismo è una distruzione assolutamente del continente europeo, perché dobbiamo avere una posizione chiara contro il male assoluto. In Italia non c'è il rischio, quindi. È la responsabilità dei politici che non prendono questa distanza. Per domani ottimista? Sono sempre ottimista. Grazie. Grazie.